Andrea Capobianco, domani una tappa particolare del progetto Teramo Basket Kids perché si arriva a questo esamino che fanno i ragazzi con i giocatori della prima squadra che parlano appunto in inglese. Sì, è una cosa che se non sbaglio non è stata mai fatta in Italia e Teramo su questi principi, su questi valori secondo me sembra all'avanguardia. Io penso che la voglia che abbiamo tutti quanti a partire dal Presidente, passando per tutti, è veramente quella di fare qualcosa di utile in ogni momento. Lo si è visto dal premio dato a Pianigiani con le motivazioni, lo si è visto da queste piccole cose che sembrano piccole, invece secondo me sono cose eccezionali per il territorio. Quindi noi lavoriamo molto su questo e in questo caso tutti quanti ci uniamo per cercare di fare qualcosa e di proporre sempre qualcosa di importante per il nostro territorio. Marco D'Ascenzo, in qualità di coordinatore, un po' delle attività che ci saranno domani, che cosa possiamo aggiungere su questa sorta di giochino che è stato così presentato ma in realtà c'è dietro poi un valore fondamentale per l'educazione del ragazzo? Sicuramente e non solo perché i bambini comunque faranno allenamento al palazzetto che è già di per sé molto emozionante. Ci saranno i giocatori della prima squadra e quindi a questo aggiungiamo l'ingrediente in più che da quest'anno è l'inglese. I bambini avranno modo di comunicare, di sentire magari le cose quotidiane durante gli esercizi in inglese, quindi sicuramente potranno apprendere anche divertendosi.